Numero 5. Il radiatore portasciugamani ad acqua serie Ocean è una soluzione pratica e versatile per riscaldare il tuo bagno e mantenere sempre a portata di mano asciugamani caldi e asciutti. Realizzato in acciaio cromato, dona un tocco di modernità e eleganza all'ambiente. Grazie al suo attacco da mezzo pollice, può essere facilmente collegato sia a impianti monotubo che bitubo. Le dimensioni compatte di 82x52x3,7 cm lo rendono adatto anche a bagni di piccole dimensioni. Con le sue staffe di fissaggio a parete e la sonda per la valvola monotubo inclusa, l'installazione è semplice e veloce. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 4. Questo termo arredo ad acqua calda è la soluzione ideale per mantenere il tuo bagno caldo e privo di muffa, garantendo un'asciugatura rapida dei tuoi asciugamani grazie al sistema di circolazione di acqua calda. Con le sue 18 barre trasversali in acciaio da 22 mm di diametro e la verniciatura in bianco, si adatta perfettamente al tuo arredamento. Le barre sono molto spesse e garantiscono un alto rendimento termico, permettendo di asciugare anche grandi asciugamani e lunghi accappatoi. Inoltre, l'utilizzo dell'acqua calda non solo è più economico, ma anche più eco-friendly rispetto all'uso della corrente elettrica. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3. Il radiatore scalda salviette CXA modello ZT è una soluzione pratica e funzionale per riscaldare il tuo bagno e avere sempre asciugamani caldi e pronti all'uso. Realizzato in resistente acciaio, questo prodotto ha un design elegante e moderno, ma soprattutto offre prestazioni affidabili e durature grazie alla garanzia di 10 anni. Grazie ai suoi attacchi da mezzo pollice e ai collettori verticali di dimensioni generose, il radiatore può essere facilmente installato e collegato alla tua rete idrica. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 2. L'esperienza di utilizzo dello scaldasalviette tradizionale Hudson Reed è stata davvero sorprendente. La qualità del prodotto è elevata e si adatta perfettamente ad ogni ambiente tradizionale. Costruito con materiali di prima scelta, come l'acciaio, questo scaldasalviette garantisce un riscaldamento ottimale e una resa termica di 680 Watt. L'installazione è molto semplice e può essere facilmente collegato al sistema di riscaldamento centrale. Questo modello è perfetto per mantenere gli asciugamani caldi e asciutti dopo la doccia, rendendo l'esperienza nel bagno veramente piacevole. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 1. Il lusso incontra la funzionalità con lo scaldasalviette ad acqua calda di Hudson Reed. Con un design moderno e sofisticato, questo termoarredo per il bagno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, grazie alla sua finitura in vernice a polvere e al suo profilo piatto a scala. Realizzato con alluminio di qualità premium, si scalda rapidamente e fornisce una resa termica di 683 Watt su 159 x 50 x 3,6 cm. Perfetto per i bagni più piccoli, questo scaldasalviette è la scelta ideale per una soluzione di riscaldamento elegante e funzionale. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.